Giampietro Manenti conosce un solo modo di fare, improntato alla spavalderia, mai arretra e sempre rilancia, anche in questa occasione dopo una sequela di date, sempre da lui indicate e disattese. Domani, parola sua, sarà il giorno decisivo per la chiusura della trattativa e dentro la settimana andremo davanti ad un nottaio con Corioni. Dal Brescia nessun commento a questa uscita di Manenti, la linea è quella dell'attendismo, fermo restando che da via Bazzoli intendono muoversi solo ad una condizione, vedere i soldi. Trapela sempre una sensazione di pessimismo e per questo si prosegue nell'ordinaria amministrazione come nulla fosse, quasi a volersi disimpegnare, anche se non sono chiari né noti i vincoli eventualmente imposti dal contratto preliminare siglato in quel famoso 30 dicembre.